Qui ci troviamo sul lago di Massaciuccoli, in particolare nell'oasi Lipu di Massaciuccoli che si trova lungo la sponda orientale del lago. Il lago di Massaciuccoli è un ambiente molto importante, la zona umida più importante della Toscana per estensione è una zona umida d'acqua dolce ed è caratterizzata da estesi letti di falasco che è questa vegetazione che si vede qua intorno e lungo i bordi del lago e lungo i bordi dei canali di Canneto, di Fragmentes che è l'altra pianta che si vede. È un ambiente molto delicato soprattutto perché a dispetto anche della sua estensione l'equilibrio di questo ambiente dipende molto dalle attività umane perché è un ambiente in gran parte modificato nel tempo dall'uomo l'estensione originale del lago era molto più grande, ci sono stati grossi interventi di bonifica negli anni 30 del secolo scorso che hanno ridotto l'estensione di quasi due terzi e attualmente quindi il lago funziona anche come raccoglie tutte le acque refra dagli ambienti agricoli attraverso le idrovore è un ambiente d'acqua dolce che però è in diretto contatto col mare c'è un sistema di paratoie che evita il riflusso dell'acqua salata nei periodi di crisi idrica estivi perché l'aumento della salinità comprometterebbe molti degli habitat che sono qua presenti uno tra tutti è appunto il falascheto che è un habitat prioritario, un habitat di interesse comunitario prioritario per la comunità europea perché è un ambiente raro anche se qui a Massaciuccoli ce ne sono grandi estensioni dovuto al fatto che il pH di quest'acqua è particolarmente alto e questo favorisce il falasco invece del canneto ma è una caratteristica che si trova raramente nelle zone umide interne quindi ne fa un ambiente particolarmente raro in questi giorni c'è questo allarme per l'aumento della salinità perché c'è stata una mancanza di gestione delle paratoie che evitano il riflusso dell'acqua marina in un periodo di crisi idrica particolarmente importante e questo ha determinato l'ingresso di acqua salata nel lago in quantità abbastanza grande solitamente considerando il livello dell'acqua nel territorio circostante dovremmo essere, facendo un'approssimazione dovremmo essere ad un livello dell'acqua adesso nel lago circa meno 30 sul livello del mare invece l'acqua oggi si trova a zero sul livello del mare questo perché da giugno in qua non c'è stato il controllo degli ingressi di acqua salata per cui una grandissima quantità di acqua salata è entrata nel bacino nell'invaso lacustre e questo al momento non ha manifestato delle conseguenze perlomeno qui dove ci troviamo noi che siamo abbastanza lontani dal mare delle conseguenze visibili diciamo e questo anche perché c'è una cintura di cave che sono delle ex cave di sabbia che sono dei buchi di 30 metri che si trovano tra il traviareggio diciamo e la palude nord del lago essendo l'acqua salata più pesante dell'acqua dolce quando l'acqua salata che entra dal mare arriva a questa incontra questa cintura di cave tende a scendere per cui probabilmente la maggior parte o tutta forse l'acqua salata che è entrata fino ad oggi nel lago si è fermata sul fondo delle cave però facendo un'approssimazione su dei 30 cm diciamo di acqua in più che c'è moltiplicata per la superficie del lago si calcola circa 4 milioni di metri cubi d'acqua che potrebbero essere entrate ad oggi nel lago quindi il livello dell'acqua salata nelle cave dovrebbe essere al limite della soglia diciamo quindi da qui in avanti comincia ad entrare direttamente nell'invaso lacustre con conseguenze che potrebbero essere devastanti perché un aumento della salinità provocherebbe la scomparsa di questo tipo di ambienti dei canneti e soprattutto dei letti di falasco e questo per quanto riguarda l'ambiente naturale ma conseguenze importanti si potranno avere probabilmente si avranno prima per quanto riguarda le colture soprattutto nei comprensori di bonifica a nord del lago dove l'acqua salata entrerà direttamente nei pozzi di mungimento per l'irrigazione per cui probabilmente quei terreni là già oggi hanno difficoltà ovviamente conseguenze dirette dell'aumento della salinità si avranno e si potranno avere anche sulla fauna sulla fauna ittica in particolare che è quella più direttamente in contatto con l'acqua immediatamente in contatto con l'acqua anche per quanto riguarda gli anfibi vale lo stesso discorso per cui pesci di acqua dolce che non si adattano all'aumento della salinità potrebbero andare incontro a morie morie anche massicce probabilmente a questo possono riferirsi le morie di pesci che si sono registrate in questi giorni anche se le cause di moria possono essere diverse e ce ne sono state anche in anni passati anche in assenza del fenomeno della salinizzazione perché anche fioriture algali le possono provocare anche crisi anossiche però questa coincidenza tra i due fatti potrebbe dare delle indicazioni insomma grazie a tutti